Ma da quanto tempo hai chiesto in live? Ehm, sei ore. Non è vero. Siamo in live dalle dieci. No, due, due, due. Perché? Fino a... Ah no, tranquilla che ti facciamo fare la tua serata. Ah no, tranquilla, adesso abbiamo finito, abbiamo finito. Mancano esattamente tre minuti. La prossima volta ti diamo la... proprio la fascia oraria in cui chiediamo la tua presenza. E sicuramente così. No, perché probabilmente ci sono i suoi amici che giù fanno... Mie, che cazzo è? Mie, oh, Dio fa. Sai come fanno i torinesi, no? Dio fa, Dio fa, qua così. Cioè, cioè, oh, noi dobbiamo uscire ad Andorra a fare serata. Questa qua, chissà che cazzo fa. Oh, minchia, ma guarda in live da Grimbo. Aspetta, scriviamoli che gli stava dicendo le cose in cuffia. Oh, aspetta. Capito? Questo sei quello che... Adesso quando scenderà farà... Oh, minchia, Gio, ma eri in live da Grimbo. Sì, ma... Mi ha tenuto l'acqua, quanto cazzo dura l'ha direttato. Guarda, non voleva essere scortese. Richiedo Venia, richiedo Venia. Non voleva... Eccomi. Eccomi. Veramente, veramente... Che giodone. Che giodone davvero, porca diazze. Vabbè, Giolami, ti lasciamo andare a divertirti. Buona serata, ciao. Ah, vi sono divertita, eh. No, lo so, ti lasciamo andare a divertirti fuori dalla... Ciao, vai via! No, però niente di salera. Ciao, Giolami, grazie. Grazie per essere passata. No, sto scherzando. No, non chiudere. Stavo ovviamente scherzando. Non stavo scherzando. No, l'hai tolta te, Verni. Verni. Giordana, dai, pace fatta.